Ricorderete, al momento del passaggio di visitare dalla Rai, dalla Sette, le polemiche che ne seguirono, ma noi, rispettando tutte le opinioni, siamo veramente felici di aver fatto questa operazione, perché visitare uno spettacolo, è un evento che fa parte della storia del costume del nostro paese. È un'opportunità per tante ragazze, tante donne, di esprimere il loro talento, la loro personalità. Negli anni, l'Università ha rappresentato non solo la cucina di talenti, ma anche è stato lo specchio dei cambiamenti del nostro paese. Noi siamo lieti di raccontare quest'ultima parte della storia pluridecennale di l'Università.